Buongiorno, sono Desiato, come parecchi mi conoscono, sono il presidente del San Nicola Calcio. Da una settimana abbiamo iniziato gli allenamenti su questo centro sportivo che si è da San Nicola, un centro bellissimo dove i ragazzi si possono finalmente allenare su un sintetico anche a San Nicola, visto che parecchi ci hanno proibito di fare un centro sportivo alto livello qui al comunale per i propri interessi, io credo, perché non siano altrimenti. Per adesso io, per dare la possibilità a questi ragazzini che possono anche loro di avere un campo degno per fare gli allenamenti per bene, io credo che spostare i ragazzi è una sconfitta per tutti noi e per gli interessi di alcuni che purtroppo non ho capito ancora in motivo, per quale motivo loro non vogliono che si faccia questa struttura sintetica, perché vuoi, perché hanno i loro interessi, vuoi perché o per quanto sanno, previscono a questi ragazzi di San Nicola e per i san nicolesi di avere anche loro una grande struttura. E quindi a a volte parecchi dicono, qualcuno dice che non bisogna dare in campo e in gestione per il bene dei san nicolesi, io dico che alla fine è un male per i san nicolesi, perché oggi tutti i comuni stanno in deficit e quindi è un momento nuovo e sarà difficile dei comuni che possono fare dei campi in sintetica, fare delle strutture di un certo livello. Quindi dare ai privati, ma dare ai privati non si intende che il privato se lo porta a casa, il privato lo mette a disposizione per tutti i cittadini di San Nicola, per tutti i ragazzi e per tutti. Qualcuno purtroppo...